Buongiorno ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Oggi ragazzi vi porterò con me a vedere Salernitana Spezia, ragazzi Partita estremamente importante per la Salernitana, ragazzi Che dopo aver fatto nuovi acquisti Deve salire per la salvezza, ragazzi Secondo me oggi sarà abbastanza interessante Vedere se con i nuovi acquisti, ragazzi Se con questo Evolvement riuscirà a restare in serie, ragazzi E questi acquisti sono, per esempio, giocatori come Federico Fazio, acquistato dalla S Roma Oppure un altro giocatore della Roma Cioè Diego Perotti e per finire Luigi Sepe, l'ex portiere del Parma E ex quarto portiere del Napoli Detto questo, ragazzi, vi do un pronostico veloce Prima di andare, io penso che finisca 2-1 Salernitana, spero così nei commenti Come pensavate che finiva la partita, ragazzi Andate fino alla fine del video Per vedere come finisce, ragazzi Adesso devo andare alla Riki Sono in ritardo, ci becchiamo Quando arrivo alla Riki E a dopo, ragazzi E a dopo, ragazzi Sì, sono arrivati alla Riki Ecco di voce della Spezia Sono abbastanza pochi E qua stanno i difusi della Salernitana Per l'atmosfera, ragazzi E dopo Gli Ultras, ragazzi Che atmosfera, ragazzi A dopo A dopo, ragazzi A dopo, ragazzi Ecco di voce della Salernitana Palernitana 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 Pedernitana Pedernitana E con il numero 99 Lì Busce Allenatore Stefano Colla Collo In appartita Con il numero 72 Tre Quattro Liano Sessi 11 11 11 11 13 Ederson 15 Lio della Serie A, ragazzi Siamo per partire Ragazzi Fischia dai Fischia I difusi lì con i ragazzi 10 anni per partire Ma fischierai eventualmente Siamo partiti ragazzi Aiuta Scantano Fischia dai Sizzone Salernitana Ragazzi Bate Castanotto Madonna Che gol ragazzi Salernitana 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 in vantaggio Salernitana in vantaggio Ragazzi Che calcio di punizione Che gol ragazzi Sizzone Spezia Ragazzi Sizzone Spezia Vediamo se segna Barriera Che è successo? Che è successo qualcosa? L'arbitro va a vedere il VAR Per un presunto fallo di mano Vediamo che fa Vediamo che cosa fa L'arbitro è al VAR Possibile rigore Per lo Spezia Quindi Calcio di rigore Calcio di rigore Calcio di rigore ragazzi Calcio di rigore Il VAR dà il rigore Che adesso lo Spezia Può pareggiare Lo Spezia può pareggiare Adesso Si mette male Stanno protestando Ma è calcio di rigore Calcio di rigore Spezia ragazzi Gli rigore Gli rigore Gli rigore Spezia Esulta lo Spezia Esulta lo Spezia Esulta il tifoso del Spezia 1 a 1 1 a 1 ragazzi Pareggio lo Spezia Ancora punizione salinitana ragazzi Parte Fazio Oh mio Dio 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 Madonna che Gol Madonna! Madonna che gol! Oh mio Dio! Madonna! Madonna che gol! Madonna ragazzi! Ragazzi un gol fantastico! Ragazzi un gol straordinario! Ragazzi che gol! C'è ragazzi fuori! Protestano per un rigore ragazzi! C'è la protesta! Niente ragazzi! Ancora una volta al VAR ragazzi! Seconda volta arbitro richiamato al VAR! Impossibile calcio di rigore! Vediamo che fa! Vediamo che succede! Sta rivedendo! Sta rivedendo! Quindi? Che sarà? Calcio di rigore! Ancora una volta! Ancora una volta ragazzi! Calcio di rigore spezia! Incredibile! Successo di tutto fino ad adesso! È successo di tutto ragazzi! Veramente incredibile! Veramente incredibile! Di tu un giallo! Vediamo che succede! Segna o no! Vediamo che succede! Vediamo che succede! Vediamo che succede! Vediamo che succede! Secondo rigore spezia ragazzi! 2 a 2 ragazzi! 2 a 2 ragazzi! Incredibile! Incredibile! Stasera dai vecchi ragazzi! Veramente incredibile! Incredibile! È successo di tutto ragazzi! Di tutto! 2 a 2 ragazzi! 2 a 2 ragazzi! Queste erano le squadre per il secondo tempo ragazzi! Lo spezia e la salernitana ragazzi! Attacca lo spezia! Prende il pallone! Attacca ancora lo spezia! Se la fa ancora! Cross si arriva! Ancora lo spezia! Cross buttato fuori! Un pallone! Un pallone! All'anno! Fa lo netto ragazzi! attacca la saleritana attacca la saleritana diuric la prende attacca lo spezia si arriva si arriva lo prende sepe sentiamo perotti ragazzi eccolo là dico perotti ancora la ternitana ragazzi riperì 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 angolo saleritana ragazzi angolo battuto corto buttalo fuori di prova fuori entra perotti ragazzi entra Diego Perotti eccolo lì l'angolo saleritana ragazzi angolo battuto lo prende il portiere punizione spezia ragazzi vediamo se fanno call punizione spezia parte fuori 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 la saleritana buttata fuori tene dentro mi suona rimessa 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 ragazzi rimessa saleritana rimessa fatta attenzione non ci arriva ancora la saleritana attacca gioca pazzo cross fuori ancora attacca ancora attacca la saleritana cross diuric uuuuh salernitana ancora c'è nel cross salernitana eccolo fuori ancora angolo salernitana ragazzi angolo salernitana e esce intanto un giocatore della salernitana angolo salernitana costituzione salernitana la salernitana la salernitana guarda la coppola ragazzi attenzione c'è arriva Ranieri attacca lo spezia fallo fallo ragazzi fallo ragazzi che chance ragazzi veramente che chance mamma mia ragazzi che chance veramente che chance ragazzi c'è il VAR ragazzi il VAR stanno controllando il VAR è successo qualcosa ragazzi farlo di mano secondo me secondo me farlo di mano che è successo che è successo rimessa al fondo rimessa al fondo scusione cannonata bloccata giuric farlo di mano scusione sforza fai di mano guarda la ma per 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 la cosa si fa la partita fallo, fallo ragazzi cross buttato fuori calcia sepe ultimi secondi ragazzi sepe Juric ce la prenderà fuori, rimessa per la spezia rimessa per la spezia ragazzi ultimi secondi letteralmente gli ultimi secondi rimessa buttata fuori ancora corre corre deve fare qualcosa deve crossarla non ci riesce ragazzi è finita salernitana 2 spezia 2 bellissima partita ragazzi bella partita bella partita ragazzi 2 calci bella partita bella partita a dopo ragazzi a dopo giunto a casa finalmente ragazzi che bella partita che bella partita ragazzi sfortunata la salernitana che non ha potuto tenere il 2 a 1 ragazzi perché gli servivano 3 punti e ne ha preso soltanto 1 però ragazzi bellissima partita specialmente i 2 gol di simone verdi ragazzi 2 calci di posizione uno più bello dell'altro ragazzi veramente straordinari straordinari ragazzi simone verdi ha fatto 2 gol ragazzi credetemi uno dei calci di posizione più belli che ho visto specialmente il secondo ragazzi comunque se volete che vado ad altre partite della salernitana oppure che vado a torino a vedere la juventus ragazzi sfondo del tasso di mi piace iscrivetevi al canale perché ragazzi se vi iscrivete e arriviamo tipo a 500 iscritti per metà febbraio ragazzi giuro che vi porterò a vedere la juventus a torino ve l'ho promesso iscrivetevi ragazzi e vi prometto che vi porterò a torino ragazzi bellissima partita ragazzi veramente sfortunata la salernitana che secondo me se teneva meglio poteva tenere il 2 a 1 e poteva prendere dei punti invece di 1 ragazzi